Sei anni di attesa, una complessa indagine passata attraverso quattro procuratori capo, la Tedeschini, Serpi, il procuratore aggiunto Mantini, l'attuale procuratore capo Bellelli. Il lavoro instancabile di due sostituti procuratori, Andrea Papalia e Anna Benigni, un immane sforzo investigativo di carabinieri forestali, squadra mobile e polizia giudiziaria per raggiungere al termine di un percorso tortuoso, per nulla agevole, caratterizzato anche da presunti depistaggi, è un castello accusatorio composto da ipotesi di reato che vanno dal disastro colposo all'omicidio e lesioni plurime colpose, falso depistaggio appunto e perfino abusi ed ilizi. Dopo un'interminabile fase preliminare, passata anche sotto la gogna del lockdown, con udienze distribuite in più aule per garantire il distanziamento sociale, si è arrivati al processo corrito abbreviato per tutti i 29 imputati, oltre alla società Gran Sasso Resort S.P.A. Nella requisitoria dello scorso 23 novembre sono state poi 26 le richieste di condanna e 4 le assoluzioni. Alla sbarra esponenti politici, funzionari e tecnici, oltre al coinvolgimento di tutte le principali istituzioni, dalla Prefettura alla Regione, dalla provincia di Pescara al Comune di Farindola. Sullo sfondo il tema dominante è stato quello del fallimento di un sistema, incompetenza, approssimazione e superficialità che non possono certo trovare riparo dietro all'imprevedibilità della valanga che il pomeriggio del 18 gennaio del 2017 ha travolto all'hotel Rigopiano, uccidendo 29 persone, solo 11 i superstiti. E non sono bastate le tante perizie, tra accusa, parti civili, difesa, nemmeno quella del Tribunale, soggetta comunque all'interpretazione delle parti per giungere a una chiara definizione di responsabilità delle condotte poste in essere. Sul quesito, ad esempio, delle due scosse di terremoto come elemento scatenante della valanga, tesi evidentemente a favore dell'imprevedibilità, i periti non l'hanno escluso ma nemmeno stabilito con assoluta certezza. Di fronte a tragedie così immani, la solita drommatica domanda potevano essere salvate tutte quelle vite? Erano giorni terribili, l'abruzzo intero nella morsa di una perturbazione senza precedenti per non parlare dello sciame sismico che imperversava nel centro Italia già dall'agosto del 2016. A maggior ragione, secondo l'accusa, l'hotel andava evacuato. La strada provinciale resa percorribile andava tenuto in debita considerazione il rischio valanghe se la regione avesse avuto una CLPV, carta localizzazione pericolo valanghe, e se tutta quella neve caduta dal 6 gennaio ed ancora di più nella notte tra il 17 e il 18 gennaio avesse messo in allerta le autorità competenti. E poiché ne è stato di tutte le richieste di aiuto partite dall'hotel per e-mail o sms, la prefettura ha agito tempestivamente e l'istituzione del famoso centro operativo per l'emergenza è partito solo sulla carta dal palazzo della provincia perché si è di fatto ignorata la problematica dell'hotel, dei suoi dipendenti e degli ospiti. I funzionari regionali avrebbero potuto fornire gli strumenti necessari per fronteggiare al meglio quel tipo di emergenza. E dal comune di Farindola, così come ci si è preoccupati di liberare la strada nei giorni precedenti per consentire all'hotel di ricevere nuovi clienti e quindi di fare economia o di intervenire tempestivamente in un'azienda agricola per salvaguardare 600 pecore e dunque la produzione del tanto apprezzato formaggio pecorino perché non si è provveduto ad evacuare il resort ricoperto di neve? Cosa hanno fatto i gestori dell'hotel a fronte di due violente scosse per garantire la sicurezza all'interno della struttura? Totale impreparazione, a più livelli, secondo la pubblica accusa, che ha chiesto pene severe, dai 12 anni per l'ex prefetto Provolo agli 11 anni e 4 mesi per il sindaco Lacchette, il tecnico comunale Colangeli e i 10 anni per i dirigenti provinciali di Incecco e di Blasio e poi a scendere per un totale di circa 150 anni per tutti e 26 gli imputati.